Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo gioco E' un free to play scaricabile su steam e si chiama Haunted Memorias L'abbiamo appena scaricato e lo stiamo provando insieme a voi E' un gioco specialmente, oh non lo preghiamo in normale By default F e H cable Va bene, vediamoci i video Questa è la prima volta che ci sto giocando Quindi lo sto giocando anche insieme a voi Quindi non so che cosa ma aspetta L'ho appena finito appunto di scaricare Non sappiamo almeno la storia, è tutto in inglese Si è tutto in inglese, non in italiano Però è un free to play e voglio vedere appunto di che cosa si tratta Se vale la pena di giocarci o meno Comunque voi consigliate, non abbiamo messo la webcam perché c'è casino in realtà Però non ci sono i sottotini Oltre che è cubo E' cubo Cubico, cubico, si lo so guarda La risoluzione comunque ragazze ha basso Intanto proviamolo Vediamo se fa veramente spaventare perché se fa veramente spaventare Un gg Solo merita Quindi poi sta a voi comunque la scelta di esedire Sì sì, continuato, o no Non è il culo trangolare E' ma Non è il turbo slider Non è il turbo slider Go to where I'm what is place Scusa ragazzi, io lo so Scusami Non c'è Che te vuoi fare? Camminiamo Camminiamo A cazzo Allora così si corre Però il fatto stesso è che si vedono le mani C'è allora, c'è una macchina Ragazzi giustamente non guardate la grafica perché non è Vi workout Eh Scusami Spat kol Scusami Scusami Spat nhau Non Non ci foscro non sappiamo quello che bisogna fare per i miei erano ma chi deve poter essere se cosa è fatto forse che cosa era quello non ci credo che è una specie di lenda ragazzi soprattutto non sappiamo se io l'ho un salvataggio per me l'altro spazio prima porto posti c'è l'occhiere di rischio se la proposta copia di maria e sicuro non solo su questo scopo voglio continuare vai e abbiamo trovato qualcosa se volete la grafica ragazze faccacare però dai voglio vedere quello che che può succedere come si chiama questo gioco a un tempo per memoria si l'ho trovato così free to play scaricabile quindi se volete sapete dove dove potremmo trovare noi magari faremo appunto un piccolo così episodio per mostrarvelo sinceramente appunto ragazzi è in inglese quindi su per giù posso intuire quello che vuole dire ma non lo capirò tutto perchè l'inglese purtroppo non lo mangio tanto bene ma lasciamo stare i piccoli qua ci vuole un codice l'uomo i poi che hai trovato 1 2 3 4 quando continuiamo perché vediamo quello che ci aspetta soprattutto non c'è comunque un salvataggio però a quanto pare ci sono comunque diversi episodi o forse sono diversi enigma da magari anche da da sperare ehm c'è non lo so da te valli sono pazzeschi ma io voglio valli sono valli 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 siamo valli dove 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 mandare dove c'è doccia questo quindi questo qui verso qui mamma mia ambiente cubo io sto mi sto concentrando a capire cosa tutti stai concentrando io mi sto leggermente spaventando un po' perché sento rumore appunto che mi vengono e che siamo stronti perché io aspettavo non api quando c'è la sala c'è anche anche Che cavolo c'è? Che cavolo c'è? Barrizza ricatti! Ma cosa che cazzo? Non lo so Se ne vado in questa nuvola blu Finché il suo gioco è veramente La capicciante ragazzi Brutto Cosa brutta Perché sinceramente non ce lo devo andare Oh mamma No, non possono prestigio Sono dei malati Lo che E' chiuso No, non è che poco fa però non ce l'ha detto Giunta Guardiamo tutto l'esterno ma Ci sono C'è In giro ci sono Di malati Di In trisiloquine E dove devo andare? Ma cercare delle chiavi Di sicuro Come faccio a trovare delle chiavi? Uuuuuh Lo Slender E' un gioco simile allo Slender C'è da pazzi Vedi Guarda Guarda Tanto In caso ci faremo un altro episodio Gio Sì Sputtiamo Sì sì Ci informiamo un po' di più Non c'è più Sì Fa' un culo Va bene dai ragazzi Faremo un altro episodio Ve lo occorremmo mettiamo il prossimo con la webcam Sì il tempo che noi giustamente scopriamo di che cosa si tratta e che cosa dovremmo fare appunto In questo gioco E che dirvi ragazzi Io spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto Quindi lasciate un commento, un bel like Iscrivetevi al canale E soprattutto Noi ci vediamo con il prossimo episodio Ciao a tutti Ciao ciao